Uno spazio colloqui, una stanza dedicata ai minori che incontrano il genitore recluso, si trova all'interno della casa circondariale di Contrada Balate a Gela. L'inaugurazione è avvenuta oggi grazie all'iniziativa del Soroptimist Club preseduto da Maria Grazia Falconeri. Il progetto nasce da questa esigenza e a livello nazionale sono nati di questi spazi colloqui, sono nati un po' in tutte le parti d'Italia, nelle varie case circondariali o all'esterno o all'interno e si unisce ad altri progetti nazionali, tipo abbiamo realizzato la stanza tutta per sé dai carabinieri per le donne vittime di violenza che denunciano e quindi hanno bisogno di un ambiente favorevole e anni fa abbiamo realizzato pure la stanza al tribunale per un'aula d'ascolto protetto. Le soge hanno dato spazio alla loro creatività, al loro impegno dipingendo con dei murales le pareti proprio per dare una modalità di approccio a questo luogo che per il bambino può essere potenzialmente traumatico, diverso, che in maniatà ecco da fare la differenza anche per il minore. La stanza è stata ristrutturata e abbellita in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria con fondi del Soroptimist Club. Il progetto e la direzione portano la firma dell'architetto Marilena Rampanti. Abbiamo avuto la possibilità anche di muovere un po' la tramezzatura per creare uno spazio più ampio e poi di conseguenza si è creato sia con il pavimento che con la colorazione di dare una regola e un ambiente più accogliente. Il discorso della regola, la pulizia delle forme e anche delle geometrie, penso che sia stata la linea di conduzione di tutto il progetto. Il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco. I bambini e i genitori potranno vivere una genitorialità più facilitata. Non è il massimo perché siamo in carcere e dopo i controlli di rito si entrerà, soprattutto i bambini, avranno la sensazione di entrare in una stanza bella, nuova, differente, come se fosse una sala da te, quasi. E questo è l'ennesimo frutto di questa attenzione che la città di Gela, il terzo settore, l'associazione di volontariato, il Sor Optimus, che ha un progetto nazionale, ha nei confronti del carcere e di ciò che rappresenta il carcere. Un presidio di legalità che però non dimentica l'umanità e la dignità della persona.